Ok signori, un bel ritrovati, sempre erano qui che vi parla, quest'oggi guida introduttiva a tutti i 24 livelli di Fall Guys. Tanta gente sta entrando su questo gioco, cerchiamo di dare un ordine a questi livelli, cerchiamo di catalogarli e di capire effettivamente di cosa si tratta. Magari qualcuno non li ha ancora visti, tutti, quindi tramite questo video potrai effettivamente vedere tutti i livelli e capire quando potresti incappare in questo genere di prove. Allora, sono quattro categorie, sono gare, survival, a team e round finali. Dicevo, le gare presentano nove tipi di livelli differenti, Dizzy Heights, Hit Parade, Seasaw, Door Dash, Gate Crash, Tiptoe, Whirli Gig, Slime Climb e Fruit Shoot. Per quanto riguarda le survival, sono Jump Club, Roll Out, Block Party, Perfect Match e Tail Tag. Abbiamo sette livelli di team, che sono Egg Scramble, Rock'n'Roll, Fall Ball, Team Tail Tag, Jinx, Hoopsie Daisy e Hoarders. E infine i tre round finali con Fall Mountain, Hexagon e Royal Fumble. Adesso andremo a vedere uno ad uno, per cui sarà un video abbastanza lungo. Vi metterò poi i vari timestamp, così potete saltare. E niente, parleremo, vi farò vedere un round, semplicemente, e vi farò vedere quindi com'è il livello e parlerò un po' rispetto all'esperienza di gioco che ho maturato. Direi che possiamo partire senza alcun indugio. Allora, cominciamo con Dizzy Heights. Ci sono di base delle pedane, ok, rotanti, su cui noi dovremmo andare. Io consiglio sempre di stare sul lato, in modo da non avere persone. Vedete al centro che c'è una marmaglia di gente, e tra le pedane che girano, le persone che arrivano addosso, rischia di essere un problema. Avete visto che io sono passato al centro di questa pedana, lì non gira, per cui potrebbe essere un modo per guadagnare tempo. Adesso siamo in una salita con le palle che vengono lanciate. Io qua mi farò prendere dalla prossima che arriva, però come potete vedere ci vuole abbastanza poco per risalire, perciò potrebbe essere un'idea. E se invece arrivate col tempismo giusto, la palla sul lato non vi fa alcun problema, riuscite ad evitarla. Abbiamo un altro giro di pedane, potete tranquillamente cadere, vedete che c'è gente giù, potete salire anche, non è un problema, sicuramente siete rallentati, ma non è un problema. Qua dovete saltare, io consiglio anziché magari far solo X, fate X quadrato in modo da fare il dive, cercate di stare il più possibile lontano dalle palle, e siete arrivati, noi qua ci siamo piazzati i secondi, e questo era di base Dizzy Heights. Abbastanza semplice, abbastanza diretto, cercate di stare lontano, dicevo, dalla massa di persone, e così ve lo consiglierò di base in quasi tutti i livelli, perché veramente vi penalizza. E soprattutto evitate quasi sempre il centro, su qualsiasi livello, dove cadono più oggetti in assoluto, questo è l'unico consiglio che ho da darvi. Direi che possiamo andare avanti con Hit Parade, molto semplice come livello, maldettamente caotico, soprattutto la prima parte, la prima e la seconda parte. Per quanto riguarda dalla metà alla fine, non è un problema, però adesso vediamoli insieme, già vedete dal, come si può dire, dalla vista aerea. Io qua sono da solo, vedete che abbiamo dei tubi di fronte a noi, questi tubi sono abbastanza semplici, vedete qua intanto mi spingono, nel momento in cui vi spingono e perdete, insomma c'è poca possibilità di riuscire ad andare sui tubi, cadete, non è un problema, in questo caso sono caduto, non è un problema, potete tranquillamente andare avanti. Quindi qua, quando ci sono queste palle rotanti, fate attenzione perché potete spingerle sia a destra che a sinistra, se c'è troppa gente contro di voi, come è successo a me, rischiate di rimanere fermi. Davanti a voi ci sarà un muro, vedete che si apre o ai lati o al centro e fa avanti e indietro, se beccate la parte ai lati non è un problema, non c'è mai nessuno, tutti vanno al centro. Alla fine ci sono queste palle, qui non è un problema se siete in mezzo alle persone, è importante invece in questa salita essere sul lato, vedete che questi, non so neanche come chiamarli, questi sorti di birilli, perdonatemi il termine, di base non vi daranno mai fastidio sul lato, perciò passate sul lato e siete tranquilli. Intanto qua vedete che ci sono dei sopravvissuti che non arrivano, guardiamo invece SISO, SISO consiste nel dover passare su delle pedane che devono essere bilanciate, perciò sarà tutto così. Quello che vi consiglio è di stare attenti con occhio sia al bilanciamento, alla ripidità e a quanto saltate, perciò cercate di stare il più al centro possibile. Ok, vedete che subito intanto si sbilancia, qua si sbilancia da morire, ok? Io qua salto, ma non mi conviene, infatti ho saltato troppo in alto e non ce n'era bisogno, ed era troppo ripido, infatti sono cascato. Qua un po' la fisica conta un pochino, vedete che qua si rischia, ma sono riuscito a cavarmela qua bene, piccolo saltino. Qui invece, vedete, in dive, per arrivare più lontano ed evitare problemi, insomma cercare di non... qua invece mi butto, me la cavo, potevo anche semplicemente non saltare, però dovevo andare al centro, perciò ovviamente in questo caso dovevo farlo. Se fosse stato più ripido probabilmente sarei caduto. Arriviamo ad un'altra zona, dovrebbe essere la penultima, questa, molto semplice, cercate di non... vedete, continueranno a fare su e giù, non saltate, ok? Mi sono fermato, quando vedete che sale la pedana e avete possibilità di saltare, andate. In questo caso potreste... in questo caso ho saltato, sono andato in dive per sicurezza, perché ho visto che stava andando giù la pedana. Arriviamo all'ultima parte, ok? Io cerco di restare qui, non è un problema, aspetto che si abbassi, non c'è fretta, se siete da soli, cercate di fare le cose fatte bene, ok? Su Fall Guys conta fare le cose fatte bene, con calma. Cercate di stare lontano dagli altri, magari state un po' più indietro, tanto gli altri alla fine cadranno sempre. Se voi siete... se voi imparate a essere tranquilli, a fare le cose fatte bene, stare tranquilli, che gli altri cadranno sempre e voi passate avanti. Tante volte mi succede che parto in file più indietro, più arretrato, e tutti si ammazzano davanti. Io aspetto, passo destra e sinistra, e alla fine arrivo top 10. Quindi questo è il mio consiglio. Tutto qua. Quindi direi che possiamo passare al prossimo, che è DoorDash. DoorDash, come possiamo vedere dalla panoramica, ci dà sette portali, sette porte da dover passare, che vanno sempre più a stringersi. Alla fine ci sarà una sorta di burrone, dovremo scendere e poi arriveremo al traguardo. Provate, se siete davanti, buttatevi, non è un problema. Io in questo caso sono dietro, perciò cercherò sempre di guardare quelli davanti a me. E appena si libera una porta vado dentro. Sono fortunato, vedete che alla fine ero da solo, mi hanno lasciato lo spazio, e sono stato fortunato che ho trovato una porta. Per cui sono passato di base da solo. Lo stavo per andare ancora sull'altra porta, ma ho deciso di seguire questi due qua che mi sembravano abbastanza fortunati, perciò continuo a seguirli. Infatti sono già terzo, barra quarto. Qua sminchiano, allora dico, ok, provo anch'io, alla fine sono stato recuperato, ma non è un problema. Ci sta, perché se avessi trovato la porta giusta sarei passato da solo. Cercate di andare in dive, quindi dive è x più quadrato, vedete? In questo caso per evitare sempre la massa di player che si... E andate in dive anche in questo caso, sempre per evitare la massa di player e andare più lontano possibile. Perché altrimenti la gente vi cade addosso e rischiate di restare fermi, la gente vi sorpassa e per voi finisce la partita. Questo è DoorDash, è molto semplice, dovete semplicemente saltare e diveare. Quindi, insomma, è veramente semplice. Passiamo al prossimo, che è Gatecrash. È simile a DoorDash, semplicemente non dovete buttare giù le porte, perché tanto i muri si alzano e si abbassano in continuazione. La parte più difficile, come possiamo vedere dalla visione dall'alto, è questa discesa con lo slime, con lo slime, scusatemi. E in fondo ci sono i muri che si alzano e si abbassano con il buco per cadere. Quindi, importante, alla lunga imparerete le tempiste che io ho qua, durante queste partite ancora non la sapevo, la tempista. Perciò mi perdonerete, vedete, intanto qua non solo tutte le persone, in più i birilli che si spostano. Di conseguenza ho perso un po' di tempo. Cercate, dicevo, di stare calmi. Dive, qui avrei potuto fare X e quadrato per buttarmi sul sicuro. Ok? Non è un problema, dicevo, se aspettate qualche secondo in più. L'importante è passare in tranquillità, perché come potete vedere qua adesso, esatto, vedete? Cercavo di passare a tutti i costi. Sono riuscito a diveare e mi sono salvato. Però si fa fatica. Qui dovete calcolare il tempismo, dive assolutamente per evitare qualsiasi tipo di problema. Alla fine vedete che mi sono comunque classificato. Ero quasi ultimo, perché mi ero bloccato. Ma se fate le cose fatte bene, come dicevo, non avete alcun tipo di problema. E alla lunga vincete sempre. La quantità di volte che sono stato eliminato in una gara per non essere mai arrivato, credo sia 3-4 partite su una settantina. Perciò questo è quello che vi posso dire. Fate le cose con calma. Questo è tiptoe, invece. Dovete trovare tra tutte le varie caselle, quelle gialle. Che vi conducono poi alla fine. Cercate di non... Io qua voglio fare il fenomeno e sono stato fortunato. Oh mio Dio, non mi aspettavo una cosa del genere. Sono stato veramente fortunato. Di solito ormai non succede più. La gente tende ad aspettare. Vedete che dopo un po' le caselle tornano arancioni. Perciò se poi cadete e dovete rifare la strada, è un bel problema. È un bel problema. Vedete che comincia a scomparire l'arancione e dovete di base tornare. Qui, insomma, è molto semplice perché avete già gente davanti a voi. Molta gente cade. Perciò avete visto che ero in fondo e sono riuscito a salvarmi lo stesso. Un dive allucinante. Qui io dovevo cadere e mi sono salvato in malo modo. Però si tratta di stare molto attenti e aspettare che gli altri facciano la mossa. Ormai tutti giocano così. Questo invece è The Whirly Gig. In sé è molto semplice. Se però prendete la parte... Insomma, avrete problemi con le pale rotanti in verticali. Se avete problemi con quelle orizzontali, si impara la svelta. Quelle verticali sono un po' più fastidiose a prescindere. Anch'io faccio fatica soprattutto con l'ultima. Però queste qua che vedete orizzontali... Non sono un problema. C'è tanta gente, vedete, che cominciano a spingervi. Quindi è quello che è. Tutti vengono spinti. Un'idea può essere quella di farsi spingere verso in avanti. Cercate di non farvi spingere indietro. E soprattutto di non finire nella massa di persone. Vedete, io qua ho sbagliato. Ok? Come se l'avessi fatto apposta. Cercate di andare avanti. Saltate. Saltate. Cercate sempre di avere le pale che vengono in avanti verso di voi. Qua andate avanti. Saltate sul giallo e poi saltate ancora qua. Potete anche se... Potete anche evitare quello. Saltare e fare R2 per arrampicarvi. Potete fare anche questa cosa. Qua ci sono le prime pale. Che non sono un problema. Seconda pala. Ok? Sbagliate questo tempismo qua. Vedete, vi salvate alla svelta. Questa è l'ultima pala. Se la tentate avete già quasi finito. Se riuscite a vincere. Non è semplicissimo. Infatti vedete che potete essere puniti. Però cadete. A sto punto non riprovate. Semplicemente fate il giro. Vedete che ancora nessuno si è qualificato. Perciò state tranquilli. Saltate. Vi prendete il tempo. Saltate ancora. Mi raccomando che una volta che avete... Cioè una volta che non vedete più la palla. Non è che non c'è più. Torna. Quindi se voi la saltate una volta e state aspettando. In questo caso mi raccomando occhio a queste pale. La palla poi torna. Cioè molta gente. Come vedremo qua. Dal fatto che seguirò delle persone che stanno ancora giocando. Comunque vedete sono arrivato nono alla fine. Molta gente. Vedete che va avanti. Ma si dimentica. Si dimentica che la palla. Vedete in questo caso. Si dimentica che la palla poi torna. Ok. In questo caso fate sempre un dive. E potete fare il dive non solo al centro. Ma anche sui lati. Perciò se vedete che il mulino gira. L'ultimo mulino. Non fatevi poi tanti problemi. Perché potete comunque passare i lati. Sempre con X e E quadrato. Qua intanto stavo aspettando un tizio... Un tizio FK. E niente. Comunque. Ecco cambiamo qua. Vedete che o la gente o si butta troppo piano. Ecco. Lui si è dimenticato. Lui si è dimenticato. Che c'è la palla che continua a tornare. Oltre al fatto che salta poco. Avete visto. E poi quando c'era il mulino. Non è andato in dive. Per essere sul sicuro. Sempre in dive. Ecco. Questa è pura sfortuna. Però sempre in dive. È fondamentale. Passiamo alla penultima gara. Che è Slime Climb. Allora. È una gara a tempo. Perché non solo gareggiate contro le altre persone. Ma gareggiate contro lo slime. Che è quella cosa rosa che vedete nella piscina. Che si alza. Perciò non importa se voi. Ce la fate o meno. Potreste essere eliminati dallo slime. Non solo dalle altre persone che arrivano prima di voi. Io qua parto primo. Io qua parto primo. E. Una cosa che faccio sempre. È saltare qua. Ok. In dive. Cerco di evitare. Vedete che sono già primo. Fondamentalmente. Arriviamo alla zona delle palle. Tendo sempre a stare sulla sinistra. Se la palla vi arriva addosso. Molto semplice. Andate sulla destra. Saltate qua. Mi raccomando. La calma. Vedete che intanto lo slime sta salendo. Perciò certa gente verrà eliminata dallo slime. Qui si tratta di. Io cerco sempre di. Arrivare. E saltare per avere un po' di boost. Boost ancora. Boost ancora. Fare le cose con calma. Precise. Qua abbiamo i tubi. Saltiamo sui tubi. Ok. Tutto molto bene. Sono ancora primo. Questa zona qua. Andate dritti. Diagonale dritta. Ok. Vedete come sto facendo io. Non dovreste avere alcun tipo di problema. Qui state ancora tranquilli. Con calma. Ecco. Io forse ho rischiato un pochino. Qua mi fermo per sicurezza. Arrivate all'ultima parte. Se cadete qui. Siete morti. Se cadete qui siete morti. Perciò. Io qua. Sono andato troppo. Troppo veloce. Dovete stare più tranquilli. Non c'è fretta. Soprattutto se siete primi. Arrivo. E slime climb. È finito. Intanto lo slime sta salendo. Perciò certa gente. Vedete che qualified. Prima erano 40. Poi 16. Poi 10. 9. Vedete che questa gente qui. Molto probabilmente. Alcuni non ci arriveranno. Alla fine. Perché cadranno direttamente nello slime. Lui si salva ballando. Questo lo chiamo ballare. Quindi se ballate. Se ballate sullo slime. Vi permette di restare. Sul posto. Lui è arrivato. E siamo tutti contenti. Fa un po'. Fa un po' lo sborone. Intanto ci siamo qualificati in 6. Come potete vedere. Al massimo 6 qualifiche. Lui ha un po' di difficoltà. Lo slime sta salendo. Lo vedete che lo slime sta salendo pian piano. Lui non riesce ad andare avanti. Vedete. Basta farsi prendere. Caduto. Caduto. E adesso vediamo un po'. Dovrebbe essere eliminato. Perché sale. No. Abbastanza fortunato. Quindi solo 4. Vedete. Adesso cade. Perfetto. Quello che voglio farvi vedere. Molto semplice. Parliamo invece di fruit shoot. Fruit shoot non è altro che una salita ripida. Una sorta di tapirulan. Ok. Dove vi sparano letteralmente di tutto. Banane. Angurie. Arance. Mele. Quello che volete. Fragole. Qualsiasi cosa. In più c'è. Questo legno qua. Che vi arriva addosso. Quindi vedete che vi arriva tutto. Quello che tendo a fare di solito. È sempre stare sul lato. Anche se non è dato che stando al centro. Non è. Non è. Se riuscite ad evitare le cose. Non è. Tanto le cose arrivano sul lato lo stesso. Vedete che al centro si ammassano. In più avete le persone. Se cercate di stare il più vicino possibile. Vicino a queste cose rosa. Se per caso cadete. Vi bloccano. Perciò riuscite a guadagnare metri. Voi continuate ad andare. Cercate di evitare tutto. Alla fine. Andate in dive. Per guadagnare metri. Quindi meno tempo state sul tapirulan. Meglio è. In questo caso mi sono qualificato. Secondo. Avete visto che stando sul lato è molto semplice. Vi posso garantire che a volte. Pur stando sul lato. Mi è arrivato addosso di tutto. Perciò. Mi è successo. Una o due volte. Che nonostante io. Abbia fatto tutto quello che vi ho fatto vedere nel video. Abbia comunque perso. Insomma questo è. Questa volta succede. Andiamo adesso a vedere. Le survival. Quindi cominciamo da jump club. Se non mi sbaglio. Fatemi un attimo vedere. Sì cominciamo da jump club. Siamo su una piattaforma. Siamo su una piattaforma. Con un tubo rosa in alto che gira. E un tubo sotto verde che gira più veloce. Il nostro obiettivo. È quello di rimanere in vita. Ok. Quando si tratta di arrivare. Da qualche parte prima della. Si tratta di restare in vita. E soprattutto. Il mio consiglio è di avere sempre. La visuale. È libera dal tubo rosa. Perché nel momento in cui. Il tubo verde comincia a fare più giri. Rispetto a quello rosa. Se voi non avete. Lo spazio per saltare. E non avete lo spazio in alto. Per vedere dov'è quello verde. A voi interessa quello verde. Dovete solo saltare quello verde. Se voi non avete lo spazio libero. Sopra il vostro personaggio. Dal tubo rosa. Vedete. Piuttosto passo indietro. Avete visto. Pur di averlo libero. Vado indietro. Mi tolgo quello rosa. Vedete. Ho tutto libero. Vedo che sta arrivando il verde. Mi levo. Qua ho sbagliato io. Ma avete visto cosa ho rischiato. Quindi sempre avere. Qua è stato abbastanza veloce. Sempre avere però. Lo spazio libero. Della visuale. Adesso andiamo avanti su roll out. Roll out sono. Cinque. Diciamo cinque cerchi. Ok. Abbiamo un cilindro formato in cinque fasi diverse. Che girano. E possono esserci dei buchi in cui cadete. Dei muri. Degli ostacoli. In più ci sono le altre persone. Che vi fanno body block. Eccetera. Quindi. Il vostro obiettivo è restare. Più su degli altri. Quindi cercate di passare da una parte all'altra. Potete anche saltare. Vedete. Tra una zona rosa e l'altra. In verità potreste saltare. Queste erano le mie prime partite. E tendevo sempre ad andare da una parte all'altra. Non mi fidavo di saltare. Però vedete che potreste tranquillamente. Tra una parte blu e l'altra. Piuttosto andate in dive. Vedete. Lui ci ha provato. Ma è finito giù. Doveva. Doveva fare. X. E quadrato. Quindi. Già 12 eliminati. Come potete vedere in alto. In alto a destra. Quindi nel momento in cui arrivano. A 17. Che è il numero massimo. In questo caso. A volte saranno di più. Siete a post. Quindi cercate di sopravvivere. Quanto basta. Non dovete essere dei fenomeni. Dovete solo essere la gazzella un po' meno lenta. Tutto qua. Non dovete essere la gazzella più lenta. Ma dovete essere la penultima più lenta. E di base. Questa è pura sopravvivenza. Non c'è. Non ci sono eroi in questo caso. Stiamo cercando di sopravvivere. Ne manca uno. Come potete vedere. Quindi si cerca di attendere il fatto del povero sfigato. Che sarà. Chi non ne ho assolutamente idea. Perché tanto nessuno. Vedete che io salto. Ecco. Avete visto cosa ho fatto in questo caso. Non sapevo fosse lì. Ho saltato. Un tizio è caduto. E io mi sono salvato. Probabilmente sarei morto in questo caso. Andiamo avanti su block party. Block party è simile. In realtà siamo su una pedana fissa. Ma ruotano attorno a noi. Dei muri. Muri. E abbiamo anche delle pedane un po' più basse. Quindi abbiamo dei muri alti. E dei muri bassi. Non solo occupano in altezza. Ma occupano anche in lunghezza. Come possiamo vedere adesso. Non so perché io abbia gli diattivati. Che sono molto fastidiosi. Ah sì. Perché stavo giocando con dei compagni. E volevo vedere dove fossero. Quindi vedete i primi muri. Abbastanza lenti. Dura se non mi sbaglio. Un minuto e quaranta questo round. E abbiamo un massimo di eliminati. Quindi quando raggiungiamo il numero massimo di eliminati. Finisce. Oppure quando scade il tempo. Vedete che questo muro è abbastanza semplice. Vedete soprattutto come la quantità di gente che alla fine vi blocca. Non è tanto. Alcuni cercano di bloccarvi con cattiveria. Ma bene o male è pura sopravvivenza. Cioè questo qua mi ha bloccato con cattiveria. O probabilmente stava solo provando i tasti. Ma altri vi body bloccano per sopravvivenza. Cioè loro arrivano per non finir giù. Però inevitabilmente bloccano anche voi. In questo caso il piccione qua davanti. Cosa ha fatto? Quindi sempre muoversi. Avanti e indietro. Ecco qua. Muro basso. Saltate. Se cominciate a cadere con quello. Poi arriva a ruota. Continuate a cadere a ruota sugli altri muri. Perciò mancano 47 secondi. I muri si fanno un po' più veloci. Ecco qua. E soprattutto un po' più fastidiosi. Cercate di non stare al centro e saltare come sto facendo io con tutte queste persone. Perché se uno cade c'è la possibilità che vi trascini con lui. E voi non volete che questo accada. Mi è successo qualche volta. È fastidioso. Più che altro si rosica perché sai che non è colpa tua. Che è stato uno che ti ha body bloccato. E non l'ha neanche fatto con cattiveria. Quindi non ti puoi neanche arrabbiare seriamente. Però è quello che a volte succede. Ecco qua. Ultima fase. Quindi abbiamo i lati bloccati. E adesso al centro arrivano da destra, sinistra, destra e sinistra. Cominciano ad essere sempre più veloci. Vedete che intanto mi bloccano. Cerco di sopravvivere in qualche modo. Le canaglie ci sono. Qua cerco di sopravvivere. Me la sono cavata all'ultimo. Qua mi bloccano ancora e mi sono salvato. Questo è un salvataggio all'ultimo secondo. E c'era da sudare. Andiamo avanti con Perfect Match. Perfect Match non è altro che il gioco della memoria. Quindi abbiamo, dovrebbe essere 12 caselle. Dovrebbe essere 3 round, se non mi sbaglio. Al primo round abbiamo solo 2 frutti. Abbiamo 14 secondi. Per vedere sullo schermo, quindi 3, 2, 1. Abbiamo esattamente 14 secondi. Vi compaiono la posizione dei 2 frutti. Quindi vedete banana e quello che credo sia una mela. Ok, quindi banana e mela. Banana e mela. Semplicemente ricordatevi. Perché allo scadere di questi secondi, di questi 14 secondi, dovrete effettivamente andare sulla casella giusta. Quindi in questo caso mela. Vedete che io sto fermo. Occhio a non farvi spingere. Il tizio che mi ha spinto vedete che è caduto. Questo è karma. Ti sta bene, coglione. E niente, quindi ci siamo salvati. 14 secondi. Adesso invece sono 4 frutti dovrebbero essere. Quindi sono arancia, mela, banana, anguria. Si dovrebbero essere 4 in questo caso. Perfetto. Quindi ricordatevi. Cercate di fare il gioco della memoria. Fatevi un piccolo, come si può dire, fatevi una piccola filastrocca. Quindi magari anguria, banana, arancia, mela. Anguria, banana, arancia, mela. Anguria, banana, arancia, mela. Anguria, banana, arancia, mela. In modo che vi ricordate. Qua invece diventano 6 addirittura. Aggiungendo ciliegia e uva. Quindi banana, arancia, anguria, ciliegia. Avete capito un po'. Cercate di prendere dimestichezza. Adesso se non sapete più dove andare. Se non sapete più dove andare. Andate dove c'è gente. Dove c'è tanta gente. È l'unico modo. Finito il terzo round. Di base finisce qua. E voi siete salvi. Dicevo, se non riuscite a memorizzare. Imparate. Ma soprattutto andate dove ci sono gli altri. Arriviamo a tail tag. Tail tag non è altro che un tot di persone. Metà con la coda. Metà senza. Vince chi a fine partita resta con la coda. Semplice. Veramente semplice. Io in questo caso sono con la coda. Vi farò vedere tutta la partita. Ok. Voglio che vediate tutto il round. È un minuto e trenta. Un minuto e trenta sembra poco. Intanto io mi nascondo qua al centro. Vedete che non vi prende qua il martello. Dovete stare attenti però perché comunque la gente può arrivare. Esatto. Vedete che mi hanno rubato la coda all'altro tizio. Meno male che io mi sono mosso. L'idea può essere cercare di stare dove non c'è nessuno. Fermi. E cercate di muovere sempre la visuale. Non c'è bisogno che vi muoviate voi fisicamente. Ma che muoviate la visuale. In modo che sapete sempre dove la gente attorno a voi. È importantissimo. È più importante muovere la visuale che muovere il vostro personaggio. Per muovere il personaggio alla fine basta veramente poco. Basta fare una virata di poco e la gente non vi prende la coda. Ma quello che è importante vedere, vedete, è sapere dove sono gli altri. In base a quello sapete se star fermi un secondo in più, due secondi in più, se andare da una parte piuttosto che l'altra. Ed è importante questo perché vi capiterà anche in Team Tail Tag. O Tanti Team Tag Tail, insomma avete capito. Eppure in Royal Fumble. Sono di base la stessa modalità in tre situazioni diverse. Intanto scappo, vedete, vado dove non c'è nessuno. Se vedete gente con la coda, state tranquilli. È gente che non vi può far niente. Quindi nel momento in cui vedete gente FK come quello lì, o gente con la coda, vedete, non mi muovo. Ho visto due tizi con la coda attorno a me. Cinque secondi, sono tranquillo, mi sposto. Ogni dive mi permette di guadagnare un secondo. E io vinco così il round. Quindi direi di passare adesso alla categoria, dovrebbe essere del team, esattamente. Quindi prendiamo subito. E andiamo a farci X-Scramble. Quindi noi arriviamo. X-Scramble consiste in tre squadre. Non c'è un numero fisso di player. A volte ve lo danno quando siete magari in 30. Ok? Quindi fa tipo tre squadre da dieci per intenderci. O magari 36. Vogliono scremarvi così avete già fatto una gara. Consiste nel prendere le uova e portarle alla vostra base. Le uova dorate, mentre le uova normali valgono uno, le uova dorate dovrebbero valere cinque, se non mi sbaglio. Una cosa che potete fare, avete visto, io non entro direttamente. Ah, giusto. L'uovo, così come le... L'uovo lo tenete con R2. Dovete tenere premuto R2 e lasciate andare. Per quanto riguarda la coda, negli altri livelli dovete usare R2. Mi sono dimenticato di dirvelo, scusatemi. In questo caso io tengo premuto R2. Poi quando arrivo qua, non entro con l'uovo perché perdo tempo. Semplicemente lascio andare. Se la gente tenta di portarvi via la roba, semplicemente voi andate a fare i bodyblock, cominciate a saltare, a premere R2. Per strattonarli tenete premuto R2. Bene o male, se voi create, vedete, se voi cominciate a buttarvi dentro, a continuare a saltare, eccetera, le persone molto spesso non riescono a stare in piedi, di conseguenza gli cade l'uovo. Quello che volete creare voi è una sorta di, come si può dire, è una sorta di marmaglia, vedete, di persone. Cominciate a buttarvi, vedete, cominciate a cercare di fare bodyblock, prendere gente a caso, qualcuno poi passa alla lunga. Ma il vostro obiettivo è veramente far sì che sta gente qua non esca nemmeno dal vostro uovo, dal vostro nido, perché nel momento in cui escono con l'uovo, voi perdete il punto. Se l'uovo resta dentro, voi il punto ce l'avete. Non andate sempre a prendere l'uovo degli altri, cercate di dividervi. Qua non c'è coordinazione, a meno che siate in parti con delle persone, ma gli altri che giocano con voi non sono coordinati. Perciò in tutti i giochi di team che vedremo, cercate di essere intelligenti. Se sono tutti da una parte, voi state in difesa. Se sono tutti in difesa, voi state in attacco. Quello che a voi frega, alla fine, è vincere. Se giocate con dei babbi, non preoccupatevi, anzi, chiamiamoli bambi. Se giocate con dei bambi, non preoccupatevi, perché alla fine vincere vuol dire che ve li trovate contro, e quindi diventa più semplice. Vedete che io qua non riesco a salire intanto, perché alla fine tra bodyblock, la difficoltà di saltare e quant'altro, se arrivate a pari punti, nei giochi a team, si va in overtime, ovvero c'è un altro countdown tipo di 10 secondi, se non mi sbaglio, o 15 che sia, e si andrà avanti così finché il punteggio non sarà sbilanciato, e quindi qualcuno verrà qualificato. Questo era Egg Scramble. Passiamo a Rock'n'Roll. Rock'n'Roll sono anche qua tre squadre. Bisogna spingere una palla nella buca. Vedete che c'è un percorso uguale per tutti. Quello che volete fare voi è spingere la palla in porta prima che lo facciano gli altri, o almeno per secondi. Potete anche bodyblockare la palla degli altri. Il mio consiglio è di essere semplicemente maledettamente veloci. La coordinazione qua non è semplice perché qualcuno spingerà sempre, vedete in questo caso, spinge sempre un po' di là, non fa girare la palla, non preoccupatevi. Cercate di dirigere, si vede subito, se siete bravi a farlo, cercate di dirigere la palla. Quando gli altri la spostano da un punto, voi lavorate affinché la palla sia dritta e non vada contro gli ostacoli. Vedete, io so che sta per andare al centro, la spingo a sinistra, mi sposto a destra perché so che qua non ci passa, anche se lavorano contro di me. Riesco comunque nel mio intento, la sposto ancora, cerco di farla passare, mi lavorano contro. Comunque qualcuno qua che sa giocare c'è, qualcun altro invece che vi darà fastidio, anche nella vostra squadra ci sarà sempre, perché finché la gente non sa giocare, questo è. I rossi sono più avanti, vedete che però ci sono anche i blu là davanti, quindi la gente cerca di bloccare le proprie, i palloni avversari. In alto c'è la percentuale, quindi i rossi hanno finito, quindi non vedrete più i rossi in giro, noi siamo all'88%, abbiamo praticamente finito, e così noi ci qualifichiamo. Rock and roll è così semplice, è veramente semplice. Andiamo avanti su fall ball, fall ball credo sia una delle modalità più divertenti, non è altro che calcio, ok per intenderci. Due palloni, ogni volta che una palla va in porta, dal centro ne cade un'altra. La cosa più interessante da fare non solo è tenere la palla con la levetta analogica, ma anche saltare e cercare magari anche di fare il dive, ok, in modo da produrre, come ho fatto in questo caso, vedete un colpo di testa e quindi la palla comincia a guadagnare velocità piuttosto che finire direttamente in porta. Non so se questa è la partita in cui faccio dei bei gol, vedete il mio compagno ha fatto un bel colpo, io adesso so che sta per cadere una palla al centro appena ho sentito il gol, vado avanti, esattamente, buono, gol. Molto semplice. Quindi ogni volta che vedete un pallone che cade, sapete che c'è un pallone che va in porta, che sia nella vostra porta o quella degli altri, non prendetevi male, semplicemente andate al centro e cercate di segnare un'altra palla, un altro gol con la palla che scende. Dicevo, guardate sempre i vostri compagni, se non c'è nessuno in difesa, state in difesa, se non c'è nessuno in attacco, andate in attacco. Non vi potete coordinare, come vi dicevo, alla fine il vostro scopo però è solo vincere. Quindi se siete sgamati, alla fine bene o male si vince, si vince quasi sempre. A meno che abbiate con voi in squadra Paperino, Topolino, Emini, e li diventa un po' problematico. Vedete che io sto dietro, non ho fretta, intanto c'è un altro gol di là, vedete perché sono rimasto indietro, perché so che sta per arrivare un altro pallone, sono maledettamente indietro, però sono rimasto un po' indietro, perché stavo cercando di difendere l'altra palla. Altro gol, difendo questo pallone, quindi lascio perdere la palla al centro. Perfetto, un altro mio compagno sa fare il suo mestiere, quindi altro gol, torno al centro, c'è altra gente che sta aspettando, insomma qualcuno qua sa giocare, altro colpo di testa, sfortunatamente c'era la difesa davanti, altro gol, guardate sempre i palloni, ascoltate sempre il suono, altra palla, dentro, insomma stesso procedimento all'infinito, e potete veramente fare 10 a 0, 11 a 0, o quello che è, chi se ne frega se poi vi segnano 1 o 2 gol, finché voi avete il controllo del centro, siete avanti di 5 gol, non è un processo, prendere 5, se avete fatto 6 a 1, prendere 5 gol è molto difficile, vuol dire che non state più giocando, perché per fare 6 a 1 vuol dire che siete forti, in questo caso guardate come i gol continuano ad arrivare, 8 a 1, non c'è più difesa da loro, ci sono due persone, a noi basta ogni volta saltare, non arrivano più di base, vedete ogni volta noi saltiamo, e loro sono troppo avanti, avanti, così si continua, ecco sfortunatamente abbiamo preso la palla da football, perciò niente da fare, ancora, ancora, potremmo andare avanti così in eterno, siamo 10 a 2, nessuno si preoccupa del gol, non è un problema, a full ball ci siamo qualificati, molto semplice, andiamo avanti con TeamTailTag, non TeamTagTail, TeamTailTag, TTT, qua siamo 4 squadre, metà di voi avranno la, metà di voi avranno la palla, ovviamente voi vedete intanto qua delle notifiche che vanno, sono gli estratti della live, vedete alcuni di voi hanno la, la coda, altri di voi no, i vostri compagni vi possono rubare la coda, il che non è un problema, perché se avete gente che magari non è brava, a rubare la coda agli altri, potete tranquillamente dargliela, ve la fate prendere, quindi se magari siete con amici in parti, rubami la coda che vado io a prendere gli altri, ok? Una cosa del genere potreste, potreste fare, se invece avete la coda e nessuno viene a toglierve, si tratta semplicemente di scappare, come vi dicevo, state fermi, è prevalentemente un gioco di, di telecamera, quindi è veramente quello che è, un gioco di, di telecamera, vedete io qua, vado con le persone, ci salutiamo, insomma ci divertiamo, fare un po' di animazioni, tanto siamo qua, stiamo tirando il tempo, dicevo quando avete gente con la coda, non preoccupatevi, perché tanto non vi danno problemi, chi ha già la coda non ve la può rubare, quindi non fatevi venire il sangue, insomma non fatevi venire l'ansia per niente, come dicevo su Fall Guys, alla fine per vincere bisogna star calmi, se cominciate a farvi prendere dal panico, è lì che fate le scelte sbagliate, vedete io qua ho fatto il pirla, ma non è un problema, l'hanno recuperata dei miei amici gialli, comunque adesso, vado subito alla caccia, mancano ancora 37 secondi, la mia squadra sta rischiando, devo dire che ho fatto un po' lo stupido qui, però la lunga può essere, quando stai un minuto fermo, può essere fastidioso, ho addocchiato sto verde qui, che mi ispirava, poi ho visto il blu, un altro verde, cambio, inutile che prendete troppo tempo a cercare persone, cambiate, se siete troppo lontani, cambiate, qua arriva un po' di gente, c'è sicuramente qualcuno con la coda, boom, presa, me l'hanno rirubata, 11 secondi, subito trovare altra gente, vedete c'è sto gufo qui, ah, peccato, non stiamo più perdendo, a un certo punto ho guardato in alto, eravamo a 6 code, ho detto va bene dai, e fortunatamente abbiamo finito, andiamo avanti con Jinxed, Jinxed è una modalità che non succede spesso, è una modalità che non succede spesso, se vedete che la grafica qua, è scarsa, semplicemente perché, l'ho dovuta ripescare, è un estratto, che mi hanno mandato di un'altra live, perché non ero riuscito a registrare il mio Jinx, quindi se vedete che la qualità, qua è più bassa, è semplicemente perché mi hanno rimandato, un video, senza le, senza le impostazioni ottimali, si tratta semplicemente di, siano due squadre, una persona di ogni squadra, parte con dei cuoricini attorno alla pancia, ok, e di base devi abbracciare le altre persone, per abbracciarle basta premere R2, vince, anzi perde la squadra che per prima, ha tutti i propri componenti Jinxed, quindi di base con i cuoricini, molto semplice, vedete li abbracciate, stiamo perdendo, siamo due contro otto, sei, cinque, quattro li stiamo prendendo, fondamentalmente ne manca uno, ne manca uno, nessun problema, vedete che qua c'è la gente, si va ad abbracciare, si va ad abbracciare, quello lì è il nostro giallo che sta, bom, eliminati, lì non dipende più di tanto da voi, anche dai vostri compagni, se siete forti a prendere le persone, fatevi dare subito il Jinx, e andate a cercare persone, e eliminatele voi direttamente, andiamo avanti con Upsi Daisy, Upsi Daisy consiste nel saltare, dentro questi, come si chiama, dentro questi cerchi, ok, alcuni saranno dorati, vi daranno cinque punti, se non mi sbaglio, sono quelli più difficili, di solito sono quelli in alto, dove dovete prenderla in corsa, molto spesso sono lì, non saltate mai, esattamente contro, contro corrente, in questo caso altrimenti non riuscirete mai a farlo, guardare sempre in giro, fondamentale, dicevo guardare in giro, lì, se vi rendete conto che un tizio sta già saltando, non perdete tempo, andate sul prossimo, si tratta semplicemente di massimizzare, il numero di punti, è quello che dovete fare, massimizzare punti, massimizzare punti, non vi interessa, di base non vi interessa provare ad andare su tutti i cerchi, va il vostro compagno, ok, in questo caso volevo andarci anch'io per sicurezza, salgo subito, arrivo qui, cercate di arrivare prima, se vedete che c'è altra gente, vedete, stavo guardando quello là in fondo, fa niente, sono andato avanti, in questo caso vado su questo, perché so che molta gente non ce la fa, a fare questo, perciò, anche se è difficile, allora dovete saltare, e quando state per scendere, andate in, in dive, scusate se non riesco più a parlare, ma dopo, quasi mezz'ora sto cominciando a non avere più, mezz'ora di fila sto cominciando a non avere più saliva, dicevo, questo qua è bello difficile, tra l'altro non paga neanche tanto, paga uno come tutti gli altri, però, è lì, quindi, vedete, molto semplice, si è buttato, e poi è andato in dive, ok, quelli là in alto sono molto interessanti, non ci va quasi mai nessuno, per cui vedete che io, arrivo, con tutta calma, ecco, vedete che hanno saltato e basta, voi invece dovete andare in dive, quindi saltate, e poi dive, semplice, qua c'è un altro, per cui vedo che ci sta andando un giallo, blocco il mio, blocco il rosso, così, vedete, ho dato spazio sia al mio compagno per quello di fronte, che a me, e ci siamo portati a casa due punti extra, infatti siamo 43 a 50, e i blu praticamente verranno eliminati in questa partita, e noi ci qualifichiamo, qualificati, andiamo a vedere invece, l'ultimo livello a squadra, che è Hoarders, Hoarders consiste in tre squadre, rosso, blu e giallo, divisi in tre zone del campo, bisogna portare più palle possibili, o essere il secondo con più palle possibili, nel proprio campo, quindi è letteralmente così semplice, mi raccomando, se i vostri compagni sono tutti in attacco, voi andate in difesa, vedete che questo qua ha buttato la palla nel rosso, bisogna avere un po' la testa bacata, per fare cose del genere, però, se nessuno difende, vedete, in questo caso io ho buttato la palla dentro, e tutti subito dentro a portarcela via, difendete, vedete che sono l'unico blu in questo caso, sono l'unico blu, sono tutti all'attacco, e io mi metto qui, insieme al mio compagno che è arrivato, e difendo, perché un pallone difeso, è importante, quindi non andate sempre a cercare altri palloni, va bene così, perché se voi ne avete uno, e il team giallo ne ha zero, come in questo caso, voi vincete lo stesso, quindi va bene così, dove gli altri non ci sono, restate voi, restate in difesa, assicuratevi che tutto va, a gonfie vele, adesso siamo a quattro palloni, come potete vedere, ne abbiamo perso uno, cercano di portarci via un altro pallone, non sono riuscito a bloccarlo, quindi ne abbiamo perso un altro, cercano di buttarne fuori altri due, stiamo perdendo, il mio compagno non è che mi aiuta molto, perché stava semplicemente body bloccando il rosso, ma ce ne sono altri, quindi vedete che cerco sempre di tenere i palloni, stavamo rischiando, fortunatamente sono arrivati altri palloni, mancano 17 secondi, vedete come sono sempre da solo, mi assicuro sempre, che dalla mia zona non passi niente, potete anche andare all'attacco con altre persone, ma come dicevo, a voi interessa vincere, quindi a voi non interessa portare i palloni a casa, a voi interessa fare quello che gli altri non fanno, e assicurarvi la vittoria, questa è la cosa che vi dirò, che vi ho detto più spesso in questo video, oltre a stare calmi, e con questo di base abbiamo finito i livelli a squadre, andiamo adesso a vedere i round finali, che sono abbastanza tostini, e quindi direi di non perdere assolutamente tempo, e cominciare con Fall Mountain, Fall Mountain non è altro che una gara, in cui dobbiamo arrivare alla corona, non solo dobbiamo arrivare alla corona, ma poi dobbiamo prenderla, quindi potrebbe essere che, missiamo la corona, e qualcuno la prenda al posto nostro, che bella che è questa zona, mi fa impazzire, allora, qua si tratta di andare, essere veloci, ma soprattutto puliti, gli altri possono sbagliare, e potete vincere perché gli altri sbagliano, ma la cosa importante qua, è essere puliti, quindi dovete fare una gara impeccabile, se voi siete impeccabili, è molto improbabile che perdiate, a meno che, in questo caso, non sono impeccabile, avete visto? mi sono fatto prendere, mi sono fatto prendere ancora, riesco a guadagnare metri, sul tizio che adesso è primo, però è riuscito a passare, anche io sono riuscito a passare, ho guadagnato metri, ok, adesso passo avanti, però, vedete, adesso passo ancora avanti, adesso c'è la corona, la prendo, dovrei essere vincitore, dovrei essere vincitore, ok, ho vinto, però dovete fare, se gli altri sbagliano, cercate di sbagliare meno degli altri, e cercate di approfittare qualsiasi cosa, dovete essere il più puliti possibile, altrimenti, non arrivate neanche alla fine, e vi superano, arriviamo su Hexagon, Hexagon dovrebbero essere circa 6 livelli, di, di esagoni, che andranno, andranno scomparendo, più voi state sopra, quindi, il vostro obiettivo, è restare più a lungo, sui livelli superiori, affinché la gente, venga eliminata, quindi chi arriva all'ultimo livello, e cade nello slime, perde, di base, vince l'ultimo restante, se voi finite nello slime, ma finite nello slime per ultimi, avete vinto, quindi quello che interessa a voi, è restare più tempo, sui livelli, se restate troppo tempo, come in questo caso, c'è la possibilità, che il livello sopra, sia già stato di base mangiato, di conseguenza, vedete, non avete più posto in cui andare, e molto spesso, quando cadrete, potreste già cadere, esatto, su, non su un livello, ma su due livelli, inferiori, e questa è una cosa abbastanza, abbastanza fastidiosa, come potete vedere, in alto, zero eliminazioni di sei, mancano ancora un po' di livelli, ok, non sono sei, molto probabilmente sono di più, perché c'è questo blu, poi c'è un altro viola, un altro giallo, e un altro blu, non è semplice vincere a, non è semplice vincere ad Hexagon, non è, io ho vinto attualmente una volta ad Hexagon, quindi la maggior parte delle volte che ho vinto, è stato a Fall Mountain, per intenderci, quindi ho fatto, per rischio fare gale, vedete, sono caduto di due volte addirittura, niente, si tratta di cercare, vedete, cerco di fare un po' di zigzag, per guadagnare più tempo, si tratta di guadagnare tempo, dovete semplicemente guadagnare tempo, e di base rombi, qua sono caduto per colpa mia, e il mio destino è praticamente segnato, perché mi stanno per tagliare la strada, quindi non c'è spazio per me, vedete, cerco di buttarmi, ma non c'è spazio, ed è così, che ho perso, un'altra finale, andata, direi che possiamo andare, all'ultima, all'ultimo livello, che vi faccio vedere in questa guida, che è Royal Fumble, siete in finale, a me è capitato che fossimo anche in due, di solito siete in sette, è il massimo che io ho visto, sette, o due, o sette persone, e qualcuno di voi ha la coda, in questo caso, il sottoscritto, questa è una delle mie prime Royal Fumble, a giudicare della mia skin, avete due minuti di tempo, dovete sopravvivere, buona fortuna ragazzi, quindi, si tratta di, non dovete per forza, ecco queste erano le mie prime, continuavo a muovermi, in realtà potete anche, star fermi, quei secondi importanti, che bastano per, per fregare gli avversari, vedete qua sbaglio, fortunatamente, gli altri sono un po' più bambi di me, per cui, mi è andata abbastanza bene, occhio qua alle palle, buttatevi in dive, potevo daivare, ecco qua ho sbagliato, si vede che erano le mie prime partite, quindi, proseguiamo, cercate di approfittare di qualsiasi cosa, che vi dia velocità, e che vi permetta di, essere sopra i vostri compagni, scusatemi, i vostri avversari, qua me la rubano, qua me la rubano, quindi sono stato, sono stato stupido io, qua mi faccio prendere, se, quando dovete inseguire, sì, nel senso, io non starei troppo attaccato agli altri, perché alla fine, sembrate solo, cioè, alla fine non concludete niente, cercate di, pensare a quello che farà il tizio, andare dall'altra parte, insomma, cercate di ragionare, o pensare a quello che potrebbe fare il tizio, soprattutto perché più siete, meglio è, da un certo punto di vista, perché avete più possibilità che lui arrivi da voi, perché se voi siete in quattro, e lui ha tre possibili, se voi siete in quattro, che lo inseguite, e lui ha tre possibili strade in cui andare, una strada potrebbe essere in bocca a voi, di conseguenza, voi aprirete le braccia, e direte, vieni, vieni, che ti aspetto, con la coda, intanto qua mancano 30 secondi, la situazione è interessante, vedete che, quasi preso, evitare il dive in questo caso, se non per guadagnare metri, ecco qua in diagonale, perché, non ha senso, perdete tempo, perdete metri, qua un metro fa la differenza, letteralmente, questa è una delle, delle modalità in cui un metro fa la differenza, anche le gare, per classificarvi, ma questo è il round finale, ed è la cosa più importante in assoluto, 4, 3, vedete che il tizio gli blocca la strada di là, lo prendo all'ultimo, vinco, e io impazzisco, e questo era l'ultimo livello, quindi ragazzi, direi che da Reno, per questo video è veramente tutto, noi abbiamo visto, tutti i 24 livelli, credo che nel prossimo futuro uscirà qualcos'altro, noi ne parleremo, li tratteremo nel dettaglio, prossimamente, se volete una guida sui 10 consigli, per come giocare a Fall Guys, e magari più avanti, delle guide su come giocare al meglio, queste, queste maglie, io vi ringrazio, e alla prossima, 3, 2, 1, aloha!